Mi chiamo Barbara Bellici, ho iniziato a correre a che avevo 11 anni grazie al professore di educazione fisica e adesso lo pratico a livello agonistico. Faccio gare di mezzo fondo, cross e strada, 10 chilometri e mezze. La gara più bella rimarrà sempre alla mezza di Palermo, nella mia città, dove nel 2016 sono arrivata prima. L'arrivo alla mezza è stato emozionante sia per me sia per i familiari che mi aspettavano l'arrivo. A New York sarà la mia prima maratona e lì ho un obiettivo chiaro, scendere sotto le tre ore. Grazie a tutti.